Ciao a tutti, sono Roberto Gaia, batterista degli Airborne, sono qui nello studio di Luca Michelotti, The Gas Tube Drum, per farvi vedere e sentire questo particolare kit assolutamente non convenzionale, vi spiegherò poi il perché. Questo kit è un kit in acrilico della Yanara, con Tom 10, 12, 14, cassa 22x18. Per questo video ho utilizzato bacchette italiane del marchio storico Roll e come piatti ho utilizzato i Diril, Symbol, Crash, delle serie che poi andrò a spiegarvi, e una particolarità di due piatti custom che insieme andremo a vedere. Colgo l'occasione per ringraziare la Yanara Distribution di Gabriele Beatrice per aver fornito questo magnifico kit di batteria per il Born to Fly Festival, Festival Power Metal italiano, organizzato da noi band Airborne. Ok, perché questa strana disposizione, queste misure non convenzionali, eccetera eccetera? Io nasco come batterista mancino, proprio riguardo i festival che mi sono trovato a suonare con gli Airborne, alcune volte ho avuto l'occasione di poter girare la batteria come avevo esigenza da mancino puro, altre volte purtroppo mi è stato negato. Mi son trovato una volta nella mia vita a dover suonare obbligatoriamente su un kit da destro, e ahimè ho avuto decisamente difficoltà. Da questo punto in avanti ho iniziato a cercare di ragionare sull'ottimizzazione del mio kit, cercando di spostare meno elementi possibili e di essere più veloce e pratico possibile per poter essere pronto sul palco. Ecco il perché di questa strana disposizione. Io tengo la cassa alla mia destra con un doppio pedale da destro, normale. Mantengo il charleston sulla mia sinistra, come se suonassi in open ending, e il mio ride ovviamente è anche sulla sinistra. Quando posso traslo il mio timpano dalla mia destra alla mia sinistra ed inverto i tom. Ahimè, delle volte non posso, quindi suono al contrario. Per queste esigenze io ho chiesi consulta a Gabriele Beatrice, già un paio di anni fa, perché cercavo una ottimizzazione dello spazio dei miei piatti di accompagnamento, quali ride e charleston, per riuscire a rimanere nella pedana 2x2 senza dover sbordare con aste o avere un ride che ahimè col peso mi cadesse giù sopra il kit di batteria. Dopo aver parlato, aver discusso su quelle che erano le mie esigenze fisiche, ci siamo addentrati nell'andare alla ricerca di un suono che potesse essere ottimale, ovviamente per la mia band Power Meta. Dopo uno studio con Gabriele abbiamo constatato che la serie Raubel poteva essere quella che si adattava al mio modo di suonare e da qui nasce la serie che io ho nominato Cosmic Rebels. Questi due piatti, studiati appositamente per le mie esigenze, sono un Hayat Raubel da 13, molto pesante, e un particolarissimo ride da 18, Big Bell, con una campana da 8. Il suono è letteralmente devastante. Come potete notare gli spazi sono veramente ristretti, per me è comodissimo arrivare con la bacchetta ad entrambi i piatti di accompagnamento e per me è stato un risultato eccellente il fatto di aver raggiunto il miglior compromesso tra comodità nell'esecuzione e un suono, torno a dire, devastante. In aggiunta alla linea dei miei piatti Cosmic Rebels, ho scelto per il tour con gli Airborne dei crash da 18, tutti e tre misura 18, sono un crash Aggressive, un crash Shining e un crash D, versatilissimo. China 20 pollici Shining, Splash serie Raw da 6 e un Ice Bell Shining da 7. e un Ice Bell Shining da 7. Ma questo non è l'unico video con questo particolare kit. Ci saranno altri due video di due song degli Airborne molto significative. La prima sarà Cosmic Rebels, uno dei primi singoli degli Airborne, titolo dalla quale io ho scelto il nome per questi miei due piatti custom. Il secondo sarà Born to Fly, che è un'altra song degli Airborne che ha dato il nome al nostro festival. e grazie ancora a Yanara Distribution per esserci stata di supporto.